Una settimana decisiva, anche se lo si è detto troppe volte, ma per Acciaieria d'Italia non sembra esserci tempo per ulteriori rinvii, c'è bisogno di risposte mentre un altro pezzo dell'impianto si ferma. Inizia lo stop temporaneo per l'Alto Forno 2, ufficializzato dall'azienda per la durata di 7 giorni fino all'11 dicembre. Il gruppo siderurgico spiega la fermata con l'avvio di un programma di manutenzioni che riguarderanno impianti marittimi, parchi, linee di agglomerazione, cocherie, acciaierie e treno di laminazione. I sindacati metalmeccanici però sono preoccupati e scettici. Resta in marcia solo l'AFO 4, visto che l'uno è fermo da tempo. Il timore è che la durata del blocco si prolunghi, con un aumento ulteriore della cassa integrazione. Per FIOM, FIOM e Wilm spinano venti di chiusura per lo stabilimento. Per il segretario generale FIOM, Roberto Benaglia, Mittal è il primo gruppo siderurgico del mondo, ma non vuole occuparsi più di Taranto. Per Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM, si rischia la chiusura definitiva della fabbrica. Lo stabilimento non è più in condizione di andare avanti anche per il segretario generale Wilm, Rocco Palombella. Si attende così l'Assemblea dei Socii di Acciaierie d'Italia, eternamente rinviata. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 6, in quella data Arcelor attuale socio di maggioranza dovrebbe svelare una volta per tutte se intende finanziare l'azienda e risolvere il problema liquidità. I sindacati spingono perché lo Stato acquisisca la maggioranza, ipotesi che avrebbe ripreso forza anche a livello governativo incalzato a sua volta da una interrogazione parlamentare sull'argomento dei senatori PD.